Ci puoi dire qualcosa su come stai lavorando? Sì, allora... Qual è la tua filosofia? La filosofia è quella di valorizzare sempre i prodotti del territorio, quindi le eccellenze perché siamo in campagna, quindi la campagna ha fior di prodotti, poi ancora di più siamo in penisola sovrentina, in penisola sovrentina mettiamo la firma su tutti i prodotti a partire dal pesce azzurro, quindi dal mare, i prodotti che ci offre il mare, dai formaggi. Cosa stai facendo in questo momento? Adesso siamo in corso di una preparazione di un evento per stasera, quindi una linea di tanti finger associati con verdure e poi delle degustazioni per eventi futuri, per matrimoni, feste vari. Vi faccio un'erano e un po' di decorazioni dei piatti in cui puntiamo a lavorare, quindi sulle eccellenze, sia a livello gastronomico che anche visibili. Ci accingiamo a metterla qui al passo. Guardate, guardate. Questa è la tecnica TAI che utilizzeremo nei nostri buffet con vari tipi di ortaggi ancora scolpiti. Prendiamo qualche bassoio di spettacolo. Siamo qui all'opera, in diretta, come vedete, alla cucina. Complimenti. Allora non ci resta che a invitare tutti qui alla Villa della Porta. Sì, nella Villa della Porta c'è un progetto sano, serio, di crescita, professionale, con i titolari, nonché veramente persone stupende e quindi ho sposato appieno questo progetto insieme a loro e entusiasta di questa partenza e sicuramente ne vedremo delle belle. Grazie, grazie. Invitiamo tutti a venire qua, ovviamente.